Ben tornati a tutti. Oggi è mercoledì, 24 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Focus su casa e famiglia. Con Saturno freddo e indisponente in sesta casa oggi il lavoro è soltanto una palla al piede, non ci investite emozioni e nemmeno progetti. Tutte le vostre speranze e la vostra ricchezza di cuore vanno alla famiglia e all'amore, così vuole la luna cancerina allo Zenit, uno scrigno di sentimento, ricordi tenerezza, mentre Mercurio in quarta casa, anch'esso legato alla famiglia, alle radici, al privato, vi parla del vostro nido sempre lindo, ordinato, con tutti i volumi ben allineati in libreria. Promotrice di Armonia Venere, entrata oggi stesso in capricorno tra le braccia dell'amante Marte, sarà sempre lei a riportare il flusso dei ricordi al passato, ciò che finora vi ha resi felici, le sicurezze economiche ed emotive, i progetti ben fondati ancora in piedi, nonostante il trascorrere degli anni. Si invecchia, succede a tutti, l'essenziale è farlo dolcemente con la pace nel cuore e la consapevolezza di aver speso bene il proprio tempo. La coppia vede maturare soprattutto il partner maschile, un uomo maturo nell'età aiuterà la coppia in modo concreto. Un uomo, impegnato, serio, vi aiuterà non poco a trovare la strada giusta. Incontri nuovi e incoraggianti per i single che troveranno nuovi amici dai quali potranno nascere flerte e relazioni di coppia, ma bisognerà stare attenti a rispettare parenti e genitori e a capire se per caso non sono già impegnati. Buone occasioni per chi ha o vuole avere un'attività in proprio, se la vostra condizione attuale non vi soddisfa sappiate che questo è il momento giusto per avviare un progetto concreto e consistente. Se la vostra immaginazione vi distoglie dagli obiettivi che vi siete proposti, sforzatevi di rimanere con i piedi ben saldati per terra e di rimarcare i vostri propositi in modo da realizzarli concretamente. Non cercate altrove quello che avete a portata di mano, presto potreste avere ottime soddisfazioni. Un giorno particolare in cui sari spesso frainteso e troverai difficile spiegarti, soprattutto in amore i malintesi si sprecheranno. Mostratevi coraggiosi e chiedete con fermezza un chiarimento necessario, questo non è il giorno per mostrarsi codardi e timorosi. Ricordate che un chiarimento vi sarà utile per schiarivi definitivamente le idee e affrontare il futuro con maggiore determinazione. Potrai fare ottimi affari. Regala qualcosa di speciale alla persona che ami. Oggi è davvero una giornata di chiarimenti, sappiate approfittare della disponibilità degli altri ma, allo stesso tempo, siate aperti ad ogni soluzione. Sogni veritieri oggi, soprattutto per i nati dell'Une dei pianeti vi ispireranno sogni e si avvereranno. Non indugiate oggi con il pensiero su una persona che non vi merita di certo, ormai lo avete capito che non è la persona giusta. Perché affliggersi ulteriormente? Vi confrontate col team composto da Marte e Mercurio nel segno nemico amatissimo del Capricorno. Non su tutti voi, però, figli e i figli di Venere, il transito agirà con lo stesso slancio e con uguali effetti. Mettete da parte impegni mondani, ma solo per il momento. I nati dal 14 al 17 ottobre, nel mirino del transito, per ora dovranno un po' faticare nella vita familiare, nella convivenza, nella gestione di una casa in comune, prudenza per chi abbia a che fare con la politica. In linea di massima dovrete combattere per ottenere successi professionale, con particolo riferimento a chi opera nel settore, della stampa, della giustizia, della pubblicità, della grafica e della moda, tutte queste bilance conquisteranno, sia pur con fatica, gratificazioni personali, si mostreranno più decise, volenterose nel prendere posizione, nell'avviare nuove iniziative. Giornata snife per varie ragioni. Innanzitutto la luna nostalgica e malinconica in cancro allo zenit in quadratura, alla quale dal capricorno si oppone mercurio, anch'esso piuttosto chiuso e malinconico, portato a rimuginare senza esternare i propri pensieri. Il peggio però ve lo riserva il vostro astro guida venere, finora allegra e simpatica in se stile. Peccato che oggi esca dall'amico sagittario per varcare i confini del capricorno raggiungendo il piccolo dio dei commerci e dei viaggi, Mercurio. Da qui orienterà l'affettività sulla famiglia e su relazioni datate, il rimpianto per situazioni e persone del passato firmerà tutta la giornata. Bando alla pigrizia e al sentimentalismo però, Saturno in sesta casa reclama più attenzione sul lavoro. Amore ed Eros. Al centro della scena la vita di famiglia con tutta la frangia più anziana che ha bisogno di supporto e anche di tanta tenerezza. In mente tanti ricordi, tutti risalenti all'infanzia, epoca dorata alla quale vi piace ripensare con tenerezza e nostalgia. Stessi sentimenti anche nei riguardi di un ex che non riuscite a dimenticare o di un amatissimo quattro zampi che ha passato il ponte dell'arcobaleno. Riguardare vecchie foto non vi aiuta, anzi vi intristisce anche di più. Lavoro e denaro. Un grande affare sia in casa dove regna il disordine cosmico, sia in azienda. Anche se non avete un ruolo dominante la vostra attività è comunque preziosa. Per il capo siete un ottimo supporto, peccato che lui non se ne accorga dandovi per scontati. Siete voi a ricordargli ciò che deve fare, chi è opportuno contattare, dove ha messo qualcosa che non trova. Frustrante che non riconosca quanto gli siete preziosi, anzi indispensabili. Meglio il lavoro improprio, tante soddisfazioni ma poco remunerativo, potete permettervelo solo se una famiglia ben piazzata è in grado di sopportarvi almeno nella fase iniziale. Benessere Stanchi, impigriti e insonnoliti Anche allo specchio oggi non siete il solito splendore, forse perché vi curate di meno e non avete tempo da perdere il trucco e parrucco. La ragione chiedetela alla sveglia, il freddo vi fa dormire di più e poi fate tutto di corsa. Per lei, amate la vostra casa, ma qualche dettaglio in più, un tocco di modernità, la renderà ancora più accogliente e armoniosa, quel tocco di colore che ancora le manca. Affrettatevi approfittando dei saldi ancora attivi. Per lui, attaccatissimi alla famiglia e alle vostre radici, genitori, nonni, bisnonni, forte anche l'interesse per l'albero genealogico e per il DNA che si tramanda di generazione in generazione. Colore delle emozioni, rosa conchiglia. Barometro dell'umore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 10, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.